Una campana stilizzata al centro della rotonda all'ingresso di Agnone. Nella sede di via Berta Isernia si è tenuta la conferenza di presentazione del protocollo d'intesa tra comune Rotary Club di Agnone e provincia. Relativo al progetto Conosciamo l'Alto Molise partendo dalla città delle campane. Il progetto prevede la realizzazione di un'opera che abbellirà una delle porte di ingresso alla cittadina più importanti e sarà sicuramente un biglietto da visita per tutti i turisti che sceglieranno di trascorrere le loro vacanze in Alto Molise. La rotonda verrà inaugurata nel corso del 2022. Ringrazio il Rotary Club di Agnone, la presidente Manuela di Lullo addetto Saia per la bellissima proposta, gli ingegnere Rossita Levrieri per la stesura del progetto, la pontificia Fonderia Marinelli per il suo costante impegno e la provincia di Isernia per l'attenzione mostrata nei confronti dell'iniziativa. Una partnership tra comune, provincia e Rotary che speriamo si ripeta anche per altre rotonde, per abbellire altri monumenti e per magari con questa prima azione dare forza anche ad altri artigiani per abbellire altre rotonde. Agnone è il distretto del lattiero caseario, il distretto del rame, il distretto degli orafi. Quindi magari questo è un primo spunto per iniziare un'opera di abbellimento e arricchimento del territorio che poi sia di richiamo per l'utenza turistica che sarà sicuramente attratta da questa azione di abbellimento. In provincia insieme al comune raccogliamo la proposta del Rotary Club di Agnone che è quella di creare un'opera che sia un'opera di miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, di finitura di una rotonda di proprietà della provincia e che tuttavia nel contempo possa avere anche un effetto indiretto quello di essere un veicolo di promozione turistica del territorio. Ecco, noi prevediamo di sistemare una rotonda che abbiamo realizzato e che ora andremo a consolidare e a rifinire con la apposizione di un'opera, di un'opera artistica, di una scultura che stilizzerà una campana, simbolo quindi di Agnone, per dare appunto questa forma di benvenuto nella città di Agnone e in genere nell'Alto Molise. Simboleggiare quelli che sono degli elementi della tradizione, della cultura di Agnone e porli in un luogo quello che viene attraversato da tutti i cittadini.